eccoci 31 maggio 2012 siamo al papiro di qui dove siamo a san nicolò san nicolò ferma che te sto filmando dopo vieni vieni grossa grossa dov'è la maestra eccola la maestra si giri dove dove sono le figlie ecco ecco nazareno e signora non faccio i primi piani ma le ragazze venite fuori prego no se no poi mi devo inseguire dentro non è possibile e allora siamo tutte pronte per la scena